Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo nella serie di Granny e siamo ritornati su Granny 3 Enhanced, ossia quella versione di Granny 3 dove c'è la fuga con il labirinto, la fuga col carro armato e a quanto pare c'è una botola segreta che ancora non abbiamo aperta e quindi lo voglio fare qui con voi in questo video. Prima di partire lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivetevi al canale con la campanella attiva e ringrazio Beretto Dieghi per aver fatto la donazione al canale, ti ringrazio vero tanto per il grande supporto e tra l'altro volevo ricordarvi che ho pubblicato il mio primo libro Un pazzo vichingo sulla luna, se siete interessati vi lascio qui sotto in descrizione il link di Amazon così niente se volete comprarlo potete prenderlo, una storia divertente che parla di questo vichingo che si ritrova sulla luna a un viaggio spaziale veramente assurdo. Va bene dai, ma adesso direi di partire, cominciamo e andiamo ad aprire insieme questa botola segreta, la botola si trova all'interno della stanza del carro armato però alcuni nei commenti mi hanno chiesto no? Parino ma come si entra nella zona segreta di Granny 3 Enhanced? Ve lo faccio vedere subito, per prima cosa dovete munirvi di Slimeshot, quindi dovete cercare la Weapon K all'interno della casa, recuperare sta Slimeshot e dopodiché dobbiamo scendere sotto dove c'è la metropolitana perché lì c'è il robottino, ma il robotto ha con sé un oggetto veramente particolare, veramente molto utile che ci serve per aprire questa porta in realtà ve lo avevo già mostrato nei video precedenti però dai, ve lo faccio rivedere va visto che alcuni me l'hanno richiesto per prima cosa dovete prendere bene la mira qui, perfetto, poi recuperate questo door activator e dopodiché potete finalmente aprire la porta segreta che è questa qua, quindi vai qua personaggio apri sta porta, dopodiché scendiamo, buttiamoci qui sotto, via ed eccoci qua siamo ritornati all'interno della zona segreta e qui vi faccio vedere, c'è una porta chiusa con un lucchetto, abbiamo bisogno della chiave del padlock ed è proprio qui dietro che si trova la famosa botola segreta, quella che apriremo all'interno di questo video qui c'è qualcosa, questo armadio è sempre vuoto, non l'ho mai trovato pieno con qualche oggetto, sempre vuoto ogni volta che ci entro mi chiedo se veramente questa stanza abbia qualche utilizzo oppure no, non ho idea va bene te, adesso per seconda cosa dobbiamo recuperare, ho capito se c'è qualche differenza fra questo door activator o con quello che ho in mano vabbè io provo ad aprire lo stesso la porta con questo che ho in mano, magari sono uguale, eh sì sono uguali vabbè lasciamo perdere, non facciamoci troppe domande, devo recuperare la chiave del padlock che ho già recuperato per voi eh sì mi son portato di nuovo avanti con il video, sennò sarebbe durato un'ora, vi giuro per trovare la weapon key ci ho impiegato non so quanto tempo invece quella del padlock a questo giro l'ho trovata subito cioè ce l'aveva Slendrina, ho soltanto portato Teddy all'interno della culla e Slendrina me l'ha droppata non so perché sto gioco mi sta laggando, guardate, ma mi lagga ma come fa a laggarmi Granny 3? cioè sto PC è potente, ci girano pure giochi giocati ad alte grafiche e niente oggi Granny 3 vuole laggare vabbè poco importa, l'importante è che riusciamo ad aprire la botola segreta che si trova qui, guardate qua cosa c'è ho bisogno di romperla, ma con cosa possiamo rompere sta botola? io non ho idea voglio provare qui con voi secondo me possiamo provare con la spranga vediamola, vado a recuperare poi qui c'è sto gabinetto che... ma perché? ma cosa ci fa un gabinetto qua dentro? ma dai, ma che roba! vabbè andiamo a recuperare la spranga, va così possiamo pure vedere se c'è qualche oggetto importante là dentro oppure no a sto giro però Angela ne l'ho lasciata sul letto a sto giro non l'ho disturbata va bene, allora la spranga dov'è che l'ho lasciata? mi sembra che io l'abbia droppata nel pelo superiore se mi ricordo bene altrimenti niente, mi toccherà passare lì ora a cercare una spranga qui intorno dove l'ho messa? forse qua dentro? no niente, non è di qua, ma dai! e no, allora ho capito dove l'ho lasciata l'ho messa di sopra dove c'è la stanza di slendrina quindi dobbiamo subito raggiungere qua su sali personaggio, perfetto ed eccola qui, recuperata subito! e questa sarà molto molto utile ok, andiamo qua e adesso proviamo a vedere se possiamo rompere la botola segreta di Granny con questa spranga proviamoci, vediamo sarà al massimo... eh, non ho idea non ho la più palida idea di quale altro oggetto potremmo recuperare vediamo, va, entra qua dentro, perfetto su, su, dai dai non ti fare, non ti bloccare in mezzo al percorso ok andiamo sempre di qua e dovremo trovare ok, questa scatola gasoline can che non ci interessa innanzitutto guardiamo bene qua proprio la scena c'è questa botola dobbiamo proprio romperla con qualcosa quindi l'oggetto c'è se mi dici che posso romperla è perché effettivamente si può aprire c'è un qualcosa qua dentro ma voglio scoprire qui con voi cosa potrebbe esserci vediamo con la spranga se si può rompere ok sì guardate qua abbiamo scoperto il passaggio segreto la botola segreta di granny lo abbiamo aperta qui davanti cosa ci sarà mai proviamo a vedere allora c'è un pulsante che posso premere ok non so cos'è successo ma va bene vediamo qui intorno se c'è qualcosa no vabbè guardate lì c'è il ragno di granny ma questa volta è ancora più grande ma cos'è enorme cioè non è lo stesso ragno che c'era su granny 1 o almeno ci assomiglia ma questo sembra molto più grande forse sarà il padre del ragno di granny 1 proviamo a vedere se io scendo sotto aspettate c'è una scritta don't go here infatti io ho un po' di paura a scendere di qua ve lo dico sinceramente cioè seriamente se io vado di qua cosa succede? no che cosa è successo? ah ma c'è il danno di caduta io pensavo che il ragno mi venisse a mangiare in realtà se devo essere sincero e invece niente c'è soltanto il danno di caduta eh vabbè ma dai e cosa serve quel ragno? inutile serve a niente no ma posso mettere fuori uso quel ragno? non lo so dovrei provare con la slanshot con la fionda ok apri qua la fionda l'ho lasciata di qua intanto l'avevo portata di sotto per prendere il coso qua dal robottino su dov'è la fionda? eccola qua intanto ho ancora due munizioni quindi posso utilizzarla proviamo a vedere se riusciamo a mettere fuori uso il ragnetto di granny il ragnetto è un parolone visto che è è un ragno bello grande quello ok andiamo di qua va muoviamoci caro ragno non ti preoccupare che adesso il buon panino ti sistemerà per bene ok no aspettate ah ma quando ho provato questo pulsante mi si è aperto questo poison trap una nuova trappola no vabbè peccato che sto giocando in fantasma in practice se no l'avremmo provata l'avrei provata ben volentieri in un prossimo video magari possiamo provare effettivamente questo nuovo aggiornamento con granny e grampa perché qua c'è pure il libro che vorrei provare ok allora accopacciamoci perfetto vediamo se riusciamo a colpire il ragno 3 2 1 e sciottiamo no non si fa niente sto ragno e non si fa niente ma c'è un modo per scendere di là posso scendere lì sotto in qualche modo io voglio provare a far sta roba proprio ci provo prendo qua la trappola la poison trap dopodichè la droppo eh no no ah droppa bene e non si droppa ah no ma di nuovo eh no non volevo cadere mi sa che non si possono buttare gli oggetti di sotto e da un lato ci può stare perché effettivamente se io dovessi droppare non so un qualcosa che mi serve per scappare tipo non so la chiave del carro armato o qualcosa di veramente molto utile effettivamente poi il gioco si bugga non si può più andare avanti si rompe il gioco quindi bisognerebbe rifare tutto da capo da quel punto di vista capirei i motivi e niente se non posso buttare la trappola io volevo fare sta roba buttare la trappola dopodichè salirci proprio io sopra per vedere se magari il danno della caduta venisse non so ammortizzato però mi sa che non si può fare peccato peccato vediamo si si può fare perfetto guardate qua adesso proveremo a fare questo bello esperimento ok dobbiamo prendere bene la mira ok mi ha fatto sia il danno da caduta e sia l'effetto della trappola insomma due due danni in contemporanea giorno 4 e niente mi sa che non si può entrare lì dentro quindi vabbè ci accontentevo di quello che abbiamo visto direi di fare una cosa visto che altro non si può fare per il momento direi che posso sapere quel video fatemi sapere sotto i commenti cosa ne pensate spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mi racconto spolliciate così vi vedete iscrivetevi al canale con la campanella attiva vi auguro buona giornata buona serata e buonanotte ciao a tutti e buon panino a tutti